Leonardo, come dicevo, era tante cose, era uno scienziato, era un artista, aveva una grande passione per comprendere la natura, era un ingegnere e quindi può essere un'ispirazione per un'altra grande sfida che credo dobbiamo affrontare, che è quella di riunificare rispetto a quanto è stato fatto in passato, in passato più recente, la cultura umanistica, quella scientifica e tecnica. Abbiamo bisogno di giuristi e giuriste, economisti e economiste, politici e politiche che comprendono la scienza e la tecnologia perché saranno una parte importante delle soluzioni alle grandi sfide dell'umanità. Grazie